Lui l'aveva arrivato a me, come va dire? No, si veniva da tutte le parti. Lui? 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 Lui l'avevo space. Coi? Lui? Lui? No... Ci sono andate a andare qua? No, adesso vado finire non ti preoccupare. No, esi un po' finire. Cienti 8 volte, lì? Siamo incontri. Cienti 8 volte? Sei bloccato. Sai quando hai visto? che l'hanno messo tutti i due, ma c'è una miccia sola, l'hanno fatta. Guarda la ferma. Vai che la nasce con me. Mh, io 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, e proprio l'hanno fatta da voler. Per il meno che ci vuoi dare la tenda un nuovo spazio, non ci vuol dire la tenda un bel giorno. C'è una cosa. Sei avesse la bigliette. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info un'altra cosa che la sceglia è di più ma è questo che non è dico è luce, è luce che mi ha fatto è luce, è luce non è che mi troppo è luce non è luce, non è il centro non è luce, non è luce non è luce, non è luce Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.